pace e bene cari fratelli e sorelle ben trovati continua il nostro cammino verso la pasqua immersi in un intenso almeno spero cammino di conversione il vangelo di questa domenica ci dà una chiave di lettura importantissima per la nostra vita cogliere dietro le tribolazioni delle preziose occasioni per la nostra conversione vediamo un po delle persone vanno da gesù e chiedono spiegazione di quanto accaduto pilato infatti aveva fatto uccidere brutalmente dei pellegrini galilei insieme agli animali che stavano sacrificando nel tempio mischiando nel sangue un vero abominio per la mentalità ebraica dove il sangue è inteso come sede della vita gesù coglie qualcosa che non va nel loro modo di ragionare e chiede loro credete che quei galilei fossero più peccatori di tutti i galilei per aver subito tale sorte no io vi dico ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo o quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di siloe credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di gerusalemme no io vi dico ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo gesù con la sua risposta anzitutto smonta un modo di pensare arcaico un po superstizioso secondo il quale dietro una morte atroce o un tragico incidente c'è sempre la colpa della persona e sì che brutta fine chissà cosa ha combinato il signore gliel'ha fatta vedere ecco avete mai sentito cose del genere io purtroppo sì tra l'altro questo modo di pensare nasconde anche una presuntuosa arroganza che l'altro sia più peccatore di me gesù smonta tutto questo anzitutto siamo tutti peccatori e sempre bisognosi di conversione poi non è vero che una sofferenza una morte tragica significhi punizione di dio a quella persona perché è più peccatrice di altre e cosa dovremmo dire di nostro signore che è appatito ed è morto in croce e quanti santi e martiri hanno attraversato fatiche sofferenze sono morti in situazioni anche drammatiche quanta gente soffre senza meritarselo basti pensare alla guerra la povera gente che ci va sotto ai bambini mi cari a volte le tragedie nascono da un cattivo uso della libertà umana altre volte sono dovute ai limiti della natura altre non hanno un immediato perché e in fondo non sono le risposte a tutti i perché che ci salvano dio stesso non ha voluto rispondere al mistero della sofferenza mandandoci tomi di risposte dal cielo ma si è fatto uno di noi se ne è fatto carico attraversandola lui per primo riempiendola così della sua presenza soffrendo lui per primo e amandoci sino alla fine ha redento la sofferenza illuminandola di una luce nuova rendendola possibile luogo di incontro con lui di conversione di santificazione propria e altrui chiaramente qui siamo in un mistero grande nel quale si entra solo con la fede e allora è possibile capire la risposta che madre teresa diede a monsignor angelo comastri allora vescovo di loreto e gli raccontava che anni fa a causa di un banale disguido medico si è ritrovato quasi in fin di vita per problemi cardiaci ed è andato in crisi cosa che gli ha fatto capire quanta strada ancora doveva fare dal punto di vista cristiano in quei momenti ha telefonato a madre teresa di calcutta con la quale era in amicizia per chiederle un qualche conforto e lei gli rispose che cosa stupenda madre ha capito bene cosa le ho detto sto rischiando di morire e lei ancora sei fortunato sei così vicino alla croce che gesù può baciarti senza neanche fare fatica ora gesù dapprima smonta questa mentalità un po' ambigua quindi invita a fare un salto di qualità anziché fare filosofiche riflessioni sugli eventi dolorosi ci chiama a cogliere in questi avvenimenti delle occasioni per convertirci perché non periamo allo stesso modo che non vuol dire che se non ci convertiamo ci sgozzano o ci cade una torre in testa ma significa perché anche a noi non arrivi una morte improvvisa senza che eravamo preparati all'incontro con dio dio ci dice sant'agostino ci ha assicurato la sua misericordia ma il domani non ce l'ha assicurato nessuno quindi in modo molto concreto potremmo chiederci ma se ci fossi stato io al loro posto in che condizione mi sarei trovato cioè come mi sarei presentato davanti a dio oggi sono in grazia di dio mi son confessato di recente sto cercando di vivere nella verità e nella giustizia questo non per vivere nella vaura ma per svegliarci dio non ci vuole spenti e smarriti ma ci vuole vivi vegeti desti pieni di vita in grazia sua l'incontro dunque con la sofferenza l'incontro con degli eventi dolorosi è una chiamata che ci viene rivolta per convertirci stessa cosa vale per quando incontriamo la sofferenza degli altri anche quella è una chiamata del signore a fare il possibile lasciandoci scomodare da essa sì la sofferenza mia o altrui è una chiamata ad amare di più noi sentiamo tanti fatti di cronaca dolorosa vediamo tanti amici persi assistiamo al progressivo allontanamento dell'umanità da dio incontriamo gente bisognosa bene che facciamo ci lasciamo toccare ci diamo da fare questi fatti rimangono cronaca o diventano un impegno a favore degli altri chiaramente nel nostro piccolo per quanto possibile che sia una preghiera un aiuto concreto un gesto d'affetto pensate anche nella vita dei santi a volte grandi intuizioni sono nate dal semplice incontro con la sofferenza con la povertà pensiamo a san filippo neri a don bosco che partirono nella loro missione di educatori dall'incontro con la sofferenza dei bambini di strada a san giuseppe cottolengo che profondamente scosso dall'incontro con una povera donna in fin di vita rifiutata dall'ospedale gli ed evita la piccola casa della divina provvidenza e quante persone nel quotidiano tirano fuori il meglio e fanno splendere un riflesso dell'amore di dio proprio quando si lasciano interpellare dalla sofferenza di chi hanno accanto e se ne prendono amorevolmente cura dunque il signore ci ricorda l'importanza del lasciarci interpellare dagli eventi ecco perché segue la parabola del vignaiolo un tale aveva piantato un albero di fichi e nella sua vigna venne a cercarvi i frutti ma non ne trovò allora disse al vignaiolo sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest'albero ma non ne trovo taglialo dunque perché deve sfruttare il terreno ma quello gli rispose padrone lascialo ancora quest'anno finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime vediamo se porterà frutti per l'avvenire se no lo taglierai noi subito potremmo pensare di essere il vignaiolo che deve avere sempre pazienza con gli altri per carità siamo chiamati chiaramente a prenderci cura ad usare misericordia a dare il tempo di crescere a chi abbiamo accanto ma in primis noi siamo l'albero che gode di un tempo di grazia e di misericordia il signore ci sta offrendo tempo per convertirci ci chiama a portare frutti il signore ci offre infinite occasioni come anche questo tempo di quaresima sta a noi approfittarne un rabbino rabbi bunam disse ai suoi devoti la grande colpa dell'uomo non sono tanto i peccati che commette la tentazione è potente la forza dell'uomo è poca la grande colpa dell'uomo è che in ogni momento potrebbe convertirsi e non lo fa convertirsi in greco metanoia indica cambiare mentalità in ebraico shuv è ritornare ritornare all'alleanza volgersi verso dio ritornare alla propria origine buona ecco siamo chiamati a cambiare mentalità uscendo da una mentalità mondana superficiale lasciandoci rinnovare dal vangelo siamo chiamati a cambiare direzione rivedendo i nostri atti le nostre abitudini ritornando a dio ad una vita vissuta in comunione con lui in obbedienza a lui lui nel quale solo c'è salvezza lui nel quale solo c'è la vera pace lo stiamo vedendo con tutto ciò che sta accadendo nel mondo solo in dio dice un salmo riposa l'anima mia da lui la mia speranza in conclusione cari fratelli e sorelle convertirsi e fare pasqua nelle piccole grandi occasioni di ogni giorno e passare dal nostro io a dio dall'essere centrati su di sé al dono di sé perciò don tonino bello diceva fratelli miei che la morte vi trovi vivi se così sarà se ci troverà vivi in grazia di dio se ci saremo lasciati interpellare dalla realtà cogliendovi occasioni per crescere nella fede nella carità morire non sarà altro che fare definitivamente pasqua il nostro passaggio tra le braccia del padre l'incontro con quell'amore divino che ci ha conquistati e che nel nostro piccolo abbiamo accolto e al quale abbiamo cercato di corrispondere riversandolo sugli altri in fondo ogni avvenimento anche ogni tribolazione è una occasione per decidere chi vogliamo essere e quanto vogliamo amare che la morte ci trovi davvero vivi che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti